Consigliera Marcozzi, parte questo camper, questo giro itinerante per l'Abruzzo per dire no, di votare no al prossimo referendum? Per dire no alla riforma incostituzionale Boschi, Renzi, Verdini. Noi crediamo, tutti i portavoce del Movimento 5 Stelle Abruzzo, dai comunali ai regionali ai parlamentari, credono di dover combattere, di scendere in campo proprio per due mesi contro questa riforma, che troppo spesso i motivi del no vengono celati dai media e dai giornali. Noi andremo nelle piazze, 77 piazze, a partire dal comune più piccolo d'Abruzzo, Montelapiano, per finire con l'Aquila tra due mesi, a raccontare i motivi del no, che sono dei motivi assolutamente fondati. Oggi qui in Piazza Unione a Pescara ci sono tutti i consiglieri regionali, consiglieri comunali, dunque uniti e compatti in questo giro per la nostra regione. C'è anche un parlamentare, gli altri sono a Roma, siamo assolutamente uniti e compatti e crediamo che questa sia una priorità, perché troppo spesso i cittadini pensano che la riforma incostituzionale, mi viene da dire, che la riforma costituzionale non incida sulle loro vite, in realtà inciderà sulle loro vite e ci sarà una grave perdita di sovranità da parte della popolazione.